Questo libro, peraltro, io personalmente lo vedo quasi come il secondo capitolo del libro precedente, il tocco e il rimedio, il sequel, il sequel, il sequel del tocco e il rimedio della parola, che in realtà come temi parla di altro, perché parla dell'effetto placebo, l'effetto aspettativa, l'effetto nocebo anche, calzato poi sulla pratica psicologica, psicoterapeutica e medica, perché è tua sorella, giusto? Sì, Simona è mia sorella ed è stato un progetto che è nato chiacchierando una sera a cena in famiglia, perché lei che ha fatto a metà della sua vita da oncologa, poi ha deciso di cambiare vita, diventare psicoterapeuta strategica, però il primo progetto che abbiamo detto portiamo avanti è proprio un libro dedicato alla comunicazione strategica nell'ambito medico e in particolar modo medico-paziente e a come tutti i medici potrebbero dotarsi veramente di strumenti comunicativi meravigliosi per intervenire nel loro ambito. Io l'ho letto qualche anno fa, ma ci sono delle cose che mi sono rimaste, che ogni tanto mi gioco anche come conoscenze di prima mano. Era quello, a giocarsela un po'. Tra cui c'era quel dato che, se mi ricordo di lato preciso, che in una ricerca dei medici di base in Inghilterra, diciamo che il tempo medio che è dedicato ai pazienti è 22 secondi, era una cosa simile. E un altro dato che vi portate… Alla frase di apertura del paziente, sì, lo interrompono dopo 22 secondi. Ah, lo interrompono dopo 22 secondi. È un'altra ricerca, mi pare, faccio la letta sempre lì, che citava come bastasse aumentare di 5 minuti il colloquio con il paziente, quindi il tempo dedicato al paziente, per vedere degli effetti terapeutici. Anche, o forse era per ridurre… no, questa è un'altra cosa ancora… Era sull'empatia. Sull'empatia. Sì, guarda, allora, è veramente interessante perché noi siamo partiti dalla premessa che ormai nel mondo medico questa, se vuoi, deriva tecnologica, deriva positiva, perché ha permesso di sviluppare tutta una serie di avanzamenti, è arrivata un po' a scapito della dimensione relazionale. Ma quello che ci premeva sottolineare, per differenziarci anche da molti che parlano di questo, è che questa dimensione relazionale non va intesa in termini bonistici, devo essere cortese col povero paziente, che per carità, umanamente va bene, ma intesa in termini strategici. Cioè, se il medico vuol fare bene il suo lavoro, che vuol dire avere un paziente che segue le sue indicazioni, quindi il tema di prima la compliance, le segue in maniera corretta e quindi probabilmente guarisce prima, visto che la compliance è bassissima, se impara un po' di regole di comunicazione riesce a massimizzare l'effetto del suo intervento medico. Quindi la comunicazione non è intesa come l'accessorio, per cui sì, se sono umano, piaccio di più ai pazienti, ma è uno strumento per rendere i pazienti aderenti e quindi proprio per la cura. E questo sia nei termini della comprensione, no? Il fatto è ormai dimostrato che se il paziente non si sente ascoltato, non solo non si sente compreso e quindi tenderà a rifiutare poi le indicazioni del medico, ma facilmente alla fine della visita riaprirà il colloquio col famoso fenomeno del… a proposito dottore, che farà perdere tempo al medico, perché il medico che per fretta è arrivato alla fine del colloquio, a quel punto dovrà per forza riaprirlo. Certo. Quindi un apparente maggior tempo da dedicare al paziente, che poi si gioca su uno o due minuti in più in incontro, che fa risparmiare tempo. L'altra cosa che invece citavi tu, questo è veramente bellissimo, hanno visto che l'effetto che il medico possa avere anche una comunicazione calda e empatica, migliora anche gli esiti negli interventi nella fase post-operatoria. L'esperimento era questo, te lo racconto brevemente. C'erano due gruppi, il famoso gruppo sperimentale di controllo. Il primo gruppo riceveva, prima di essere operato, la visita dell'anestesista, che gli diceva, lei verrà operato, vedrà che andrà tutto bene, arrivederci e grazie. Due minuti. Al secondo gruppo invece, lo stesso anestesista si sedeva a bordo letto, gli prendeva la mano, lo toccava e gli spiegava bene cosa sarebbe avvenuto, lo rassicurava sul fatto che dopo non avrebbe sentito dolore, che sarebbe andato tutto bene e poi se ne andava. La differenza era di 5 minuti fra una comunicazione e l'altra. Hanno misurato che non solo le persone che avevano ricevuto la comunicazione empatica richiedevano molti meno farmaci antidolorifici dopo l'operazione, ma venivano dimesse addirittura un giorno e mezzo prima degli altri. Quindi non è solo un potere emozionale che medico simpatico, ma è una ricaduta anche su un decorso fisico, quindi pensa il potere che avrebbero i medici nel migliorare il decorso anche di interventi e di altri tipi di situazioni se sapessero comunicare in maniera corretta. Che poi questo paradossalmente è spesso una cosa che ci perdiamo anche noi, mi ricordo un articolo che avevo letto di Deschaser dove diceva lo psicoterapeuta lavora con il dialogo eppure è sorprendente quante poche psicoterapie prestino attenzione al dialogo insieme, non all'analisi del contenuto, ma proprio all'aspetto processuale, esatto, di forma. Ti farei un milione di altre domande, però collegandomi a questa e volendo un pochino arrivare verso la conclusione, poi forse ti chiederò qualcos'altro ancora prima. Se volessi dare, facciamo una doppia domanda, visto che abbiamo parlato di due cose in particolare. Da un lato, se volessi dare un suggerimento al giovane psicologo, quello appena abilitato, sia nell'ambito della psicofarmacologia, dei farmaci, del lavoro con i farmaci. Immagina che di fronte il giovane psicologo gli vuole dare un esercizio di vita quotidiana, nella sua vita oppure con i suoi clienti, che lo aiuti nel lavoro, nell'interazione, l'integrazione del suo lavoro con il paziente e con il psicofasmo. Ci so che ti credo una cosa enorme perché ci sono mille variabili, però qualcosa che può essere gli utile, anche solo leggersi un libro, il tuo libro. E dall'altra parte un suggerimento invece, dal punto di vista più dialogico, tenendo in considerazione gli effetti della comunicazione, che lo aiutino in questo. Io so che ti ho fatto una domanda enorme, però... No, ma hai chiesto una cosina quante ore avete per rimanere qui. Senti, allora, sulla prima sarò banale, però veramente la prima risposta che mi viene da dare è che lo psicologo non può esimersi da conoscere quello che è il panorama degli psicofarmaci. Quindi deve conoscere quali sono, quali sono le categorie, conoscere almeno i nomi commerciali dei più utilizzati, deve conoscerne anche un po' di effetti collaterali, e deve conoscere in quali casi sono indicate e in quali no, ma non perché lui debba disporne, ovviamente non è il suo lavoro, ma perché lui possa aiutare la persona che ha davanti anche a volte a prendere decisioni rispetto a questo. Se lui è un referente importante, capita spesso che a me i pazienti chiedono, ma lei cosa ne pensa dottoressa, vado dallo psichiatra prendo o no i farmaci. Cioè, ovviamente uno può dare un punto di vista, ma non deve essere un punto di vista ideologico, deve essere un punto di vista basato su dei dati concreti e anche sulla situazione della persona. Quindi, prima cosa studiare e informarsi, seconda cosa lasciare da parte le ideologie, perché purtroppo, prima abbiamo parlato dell'ideologia, se vuoi, medica tradizionale, però anche nel nostro mondo a volte si assiste a un'ideologia contraria, e le ideologie, come tutte le rigidità, sono pericolose. Quindi, essere anche aperti al confronto e anche aperti alla collaborazione, perché ci sono situazioni in cui è fondamentale che il paziente abbia un supporto. Non so se ti è mai capitato, a me devo dire pochissime volte, ma le poche volte in cui mi è capitato di avere davanti una persona che non riusciva a dialogare con me, perché era persa in un suo mondo di tenebre nere, perché lì non c'era la domanda, serviranno noi farmaci. In quel caso era chiaro che la persona non era nemmeno in grado di comunicare, perché era in una profondità tale da non riuscire proprio a seguire nemmeno uno scambio. Quindi, lasciamo da parte le ideologie, però stiamo attenti, perché purtroppo quella che in questo momento è più imperante e più dannosa è quella che ci dice che esiste la psicopillola per ogni cosa. Ecco, questo, come dicevi tu prima, è un problema culturale ancora più prima che medico, perché siamo tutti portati a pensare che siccome dobbiamo avere la performance ideale su tutto, abbiamo bisogno di dopparci in qualche modo. I psicofarmaci sono droghe legali, ovviamente metto droghe per virgolette, però è come l'idea di devo performare di più, e quindi se non ho l'erezione migliore del mondo mi prendo il Viagra, se non ho l'umore di felicità ideale, forse ho bisogno di un antidepressivo. Perché io ho persone che mi chiedono, siccome non si sentono felici tutti i giorni, se forse sono depresse. Cioè, stiamo arrivando all'assurdo di pensare che la condizione esistenziale, normale dell'essere umano sia la felicità. Cioè, ci si è lasciati duemila anni di filosofia alle spalle, senza nemmeno accorgersene, ma non solo di poesia, di malinconia creatrice. Eppure l'uomo di oggi occidentale più delle volte pensa che sa momenti di tristezza, se soffre un lutto, una perdita, e sta male, è malato. Ecco, io trovo che questo sia veramente terribile. Perché secondo te, perché siamo, anche qui, domandina da 30 secondi, però perché stiamo finendo in questo, in questa mancanza di profondità, che poi può sembrare strano, detta da uno strategico, no? Bravo, va, io ti rispondo da strategico che la perché non è la domanda giusta da farmi, no? Questo ci riporterebbe a fare analisi. Il punto è cosa possiamo farci, no? E ripeto, lasciando da parte la rivoluzione, ci rimane la divulgazione, quindi cercare di arrivare al più possibile alle persone. Anzi, ti ringrazio molto perché in questo momento mi stai permettendo di fare questo tipo di divulgazione, anche con dei mezzi moderni, no? Che quindi ci permettono di arrivare a più persone e quindi poi farlo con le singole persone. Io ci tengo sempre molto, quando parlo con queste persone, a fargli capire che la tristezza è parte fondamentale della nostra vita, non saremmo umani se non l'avessimo. Racconto spesso anche di cose personali in cui io posso aver avuto momenti di insicurezza, di tristezza, perché poi c'è questa idea, no? Che siccome tu hai una laurea, una specializzazione, sono una sorta di Wonder Woman o Superman, che non hai mai problemi, io rispondo sempre che magari bastasse una laurea o una specializzazione, direi di prenderla tutti perché no, a questo punto non abbiamo più bisogno di niente. Ecco, no, essere equilibrati non vuol dire essere apatici o vivere nel principio del piacere continuamente. Essere equilibrati, anzi, vuol dire sapersi muovere in un mondo emotivo variegato in cui la paura, la rabbia, la tristezza entrano e devono entrare e saper rimanere in equilibrio sulla corta tesa. E se dobbiamo chiudere con qualcosa rispetto alla comunicazione, un suggerimento per lo psicologo, per non trascurare un aspetto che è quello con cui noi lavoriamo, su cosa rientresti la sua attenzione? Allora, su quello che diceva Seneca, che abbiamo due orecchie e una bocca perché dovremmo ascoltare il doppio di quello che parliamo. Fantastico, grazie mille. Grazie a te Flavio, è stato un piacere. Grazie.